Poi ho scoperto che esistevano dei primi gruppi che facevano un rap italiano e io ho detto, cavolo, si può fare? Cioè, tipo Frank Stein Jr., si può fare. No, regà, ma dove vado? Damo quello, cioè, è una bomba. No, va, 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 è così. Vabbè, a un certo punto c'è proprio spinto, non è che vado spontaneamente, vengo proprio preso. Spintaneamente? Simpaticamente, sì, spintaneamente, portato al microfono aperto. Vabbè, prendo sto microfono, comincio a rappare questa strofa, la faccio tutta, applauso generale. Il vostro sogno non era fare il grano facendo la musica, era fare la musica? Esatto, sì. Tanti ragazzi, io ho l'impressione che nemmeno si godono quello che fanno, perché c'è questa continua, appunto, anzi, la prestazione. Dico, hai fatto un pezzo da paura, complimenti. Eh, sì, però c'ho meno view di quello e poi c'ho meno stream di quell'altro. E dici, vabbè, però, cioè, goditelo pure. Fai i tuoi live, fai la tua vita d'artista. Del mestiere che più ti piace, tu devi essere padrone dei mezzi per poterlo fare. Però tu pensa ai casi della vita, se non ci fosse stata l'ora di chimica e biologia, non avresti fatto il rap. Sì, con Filomena Marturano, di cui ricordo sempre il nome e il cognome. Grazie, professoressa Marturano. Giulio Gaudiano. Dunque, mi chiamo Tommaso, cognome Zanello, nome d'arte Piotta, faccio tante cose, diciamo, quello principale è musicista e cantante. Poi, in realtà, negli anni, secondo me, mi piace sperimentare, ho messo mano anche a cose di scrittura, che sono libri, sceneggiature, teatro, radio anche. Poi una mia etichetta si chiama La Grande Onda, quindi faccio anche discografiche e l'editore. Insomma, diciamo che sono piuttosto curioso. Quando è la prima volta che ti sei detto voglio fare il musicista di professione e posso farcela? Ma non è un solo momento, è la somma di alcuni momenti. Però così, il primo che mi viene in mente è nel 1991, quando io avevo già scoperto del rap come ascoltatore, quindi compravo quei pochi dischi che si trovavano in un'epoca in cui, ricordiamo, non c'era il web. Per cui so che chi è più piccolo fa fatica a immaginarlo. Perché poi lo racconta e dici, ah sì sì, certo, 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 sì sì. Vabbè, che poi cercavi su Google, no, no, no. No, non c'era il Google. Ah, che poi magari scrivevi a uno un messaggio, no, non c'era, lo smartphone, che poi non c'era, c'è il telefono del quello grigio, vecchio sito. E per cui bisognava guzzare l'ingegno e camminando per strada, con gli occhi ben aperti, scovare un cappellino girato, una scarpa da basket alta, un pantalone largo, per intuire forse che quella persona magari potesse conoscere quella musica e quella cultura. E magari con lui scambiarsi poi dei dischi, delle cassette, delle informazioni. Questo all'inizio come DJ, cioè quindi ascoltatore, poi DJ, quindi c'era un minimo di attività, nel senso che poi queste canzoni che ascoltavo da disco le mettevo assieme. Quanti anni avevi più o meno? 15 anni. Ah, ok, proprio adolescente. Quindi c'era un'attività, diciamo, creativa, anche se, non voglio fare una classifica, non è da me, però insomma comunque, almeno dal punto di vista personale, è un'attività creativa minore rispetto a quella che poi sarebbe arrivata in seguito. Poi ad un certo punto, ecco, mi è venuto distintivo scrivere delle rime a scuola. Prima in inglese, perché sentivo l'hip hop americano, quindi scrivo qualcosina in inglese, a modo di jingle, niente di che. Poi collaborando con una radio romana storica, che è Radio Centrosuono, quindi mi è stato chiesto qualche jingle, ma ero costretto a dire, per esempio, banalmente il nome della radio, che è in italiano. Quindi cercare una rima in italiano. Poi ho scoperto che esistono dei primi gruppi che facevano un rap italiano, cioè Assalti Frontali a Roma, Isola Possi a Bologna, di cui poi faceva parte Neffa, per esempio. Per dire uno dei nomi, insomma, più popolari che sono poi rimasti. E io ho detto, cavolo, si può fare? Cioè, tipo Frankenstein Junior, si può fare. Ma perché c'era proprio l'idea che il rap fosse l'espressione di una cultura che aveva una sua lingua, per cui non lo potevi fare in italiano? Io ce l'avevo. Cioè, avevo la percezione che fosse una cultura esterna, diciamo, alla mia e a me piaceva quanto può piacere, non so, a uno fissato con la world music qualche canto africano. Per cui dici, lo ascolto, lo colleziono, ne parlo, teorizzo, posso, capito, leggere un saggio, magari un giorno scriverlo, ma non farlo io in prima persona, perché non ho i requisiti proprio, come posso dire, storici, culturali per farlo, linguistici. Invece poi, avendo ascoltato queste due canzoni che giravano, una è Batti il tuo tempo e l'altro, appunto, quella di Isola Poste, che era Stop al Panico, e ho detto, ah, cavolo, cioè, si può fare. Quindi mi sono messo in classe, io andavo sempre bene a scuola, meno al classico chimica e biologia. Ok. Infatti io mi chiedevo, ma perché l'hanno messo? Cioè, non so, mi sembrano molto attinenti a materia umanistica, in realtà è un errore, però, insomma, non avevo un grande rapporto con l'insegnante, e quindi io passavo dalla posizione due, cioè dal secondo banco, direttamente alla posizione quattro, cioè l'ultimo, mi chiudevo nel mio mondo musicale e c'era questa sorta di patto di non belligeranza, cioè nel senso che già mi aveva rimandato l'unica volta in vita mia una materia, poi ho superato anche quella, l'ha detto, ah beh. Però tu pensa ai casi della vita, se non ci fosse stata l'ora di chimica e biologia, non avresti fatto il rap? Sì, con Filomena Marturano, di cui ricordo sempre il nome e cognome. Grazie, professoressa Marturano. E praticamente, a certo punto ho scritto la mia prima canzone, ti parlo del 91, cioè la prima guerra in Iraq, per contestualizzare un po' il periodo, e le prime serate di questo mondo musicale si tenevano ogni 15 giorni, cioè nemmeno a settimana, talmente eravamo pochi, in un centro sociale che per fortuna ancora c'è, che è Forte Prenestino, a Centocelle. Si chiamava La Tortuga, come il bar di fronte a scuola, ma diametralmente opposto come frequentazioni e scritto. Come segni politici e frequentazioni. Mettevano i dischi, per esempio, di Wallopai Paua, con DJ Lampadred, uno dei padri del reggae romano-italiano, che aveva già i dread lunghi fino alle caviglie, cioè, tanta scienza per allora, con questi giure dischi e a un certo punto, dopo tanto reggae, lui comincia a mettere un po' di rap, Public Enemy, Sista Soul, cioè, tutti questi artisti comunque parecchio con contenuto, aggressivi, hardcore, che a me piacevano parecchio. E a un certo punto mette una strumentale e dice, microfoni aperti, chi vuole? No, ma io dico, microfoni aperti, ma che vuol dire? Arriva uno di AK47, che era un altro gruppo romano importante di quegli anni, l'altro uno veramente bravo a reppare, Roberto King, perché andava già in extra bit, quando era doppio piccolo le parole del tempo, e fa una strofa da paura. Poi i miei amici di scuola, sapendo che io scrivevo, mi dicevano Zano, il nome d'arte era ancora Zano, Zano come Zanello, diciamo, accorciato, che era il mio soprannomo a scuola, e T come un po' anni 80, un po' giovanotti, perché chiaramente avevo cominciato ascoltando Lorenzo. E Zano in orega, ma dove vado? D'amore, c'è una bomba, no, vai, vai, così. Vabbè, a un certo punto c'è proprio spinto, non è che vado spontaneamente, vengo proprio preso, simpaticamente, sì, spintaneamente portato al microfono aperto, vabbè, prendo sto microfono, comincio a rappare questa strofa, che per fortuna, la memoria ero giovane, quindi ricordavo perfettamente, la faccio tutta, applauso generale, e calcola che essendo ogni 15 giorni eravamo pochi, ma comunque ti parlo di una serata che faceva circa 1000, cioè quando andava male 500, quando andava bene 1000. Certo, poi non erano tutti super fan del rap, stavano lì per vari motivi. Sì, ma poi ero quello piccolo, cioè noi essendo ancora al liceo eravamo i piccoli che andavamo alla serata dove avevamo tanti universitari e qualcuno anche già oltre l'università, quindi proprio, cioè, ricevere l'applauso di tante persone, grandi, poi a quell'età sai, pure tre anni di differenza ti sembra, oddio, quello è già guida, c'ha la macchina, quello fa la manifestazione, quello, che ne so, x cose. Cioè anche all'università, mi ricordo quando andavo con mio fratello, che è più grande, lui stava là, io camminavo per tutte le viette della Sapienza, c'erano anche allora i mercatini con i vinili, ma mi sembrava andare in vacanza, c'è un mondo parallelo, capito, all'estero. E, vabbè, insomma, ricevo questo spontaneo applauso, ma davanti di tutti, quando sono tornato ero fomentato, ma non tanto a livello di ego, che mi è sempre interessato un po' relativamente. No, ma nel senso che ho detto, ma lo posso fare, ogni volta si può fare, però un passaggio in più, capito? Prima era si può fare, scrivere, poi si può fare, scrivere in italiano, si può fare, scrivere in italiano e anche cantarla a un pubblico e poi via via, insomma, ecco, certezza dopo certezza, tassello dopo tassello è diventato quello che poi di fatto è anche adesso. Io ho seguito un po' il tuo percorso, mi permetto di interpretarlo, dimmi se sto dicendo delle cavolate, ma mi sembra che c'è stato un momento in cui dei tuoi brani sono diventati mainstream, cioè sono usciti fuori dai confini del rap, hanno toccato, cioè non c'era nessuno che non li conoscesse, sono entrati a far parte proprio della cultura generale italiana in quel momento e quindi immagino anche che hai subito l'impatto del successo, della fama e magari improvviso non te l'aspettavi. No, nel senso così come è arrivato Eclatante non me l'aspettavo né io né nessuno, insomma, del mio venturace, quando dico venturace intendo la mia crew perché nel rap si usa tanto agli inizi stare assieme, no? Sì. Cina di persone, anche dividersi i ruoli, all'epoca era solo, so, DJ, beatmaker, MC, fotografo, oggi sarebbe il videomaker, il social media manager, però il concetto è quello, cioè si sta assieme, abbiamo la stessa passione, ognuno la declina in base alle proprie capacità e gusti e si cerca di viaggiare tutti quanti assieme finché si può, poi c'è sempre una piccola diaspora, però insomma comunque finché si può e aiutandosi a vicenda perché te magari fai un video, ti servono le musiche, viceversa noi siamo una crew, dobbiamo fare delle serate, ci serve un social media per promuoverle, spingerle o per raccontarle, poi da valutare così di fotografie, piccole clip e quant'altro. E niente, quindi praticamente è cominciata esattamente così, passo dopo passo, ma a un certo punto c'è stata un'accelerazione veramente improvvisa, cioè, ma ti giuro in 20 giorni un mese, io ricordo proprio che mi sembra che fosse aprile del 99, a calco ero già uscito con un mixtape che aveva venduto, più venduto in Italia, la banda del trucido, fatto con Squarta di Corvelino. E avevo già fatto live in tutta Italia, anche il forum di Assago, chiaramente non da solo, con altri colleghi come Colle del Fomento, come Neffa, insieme a Radio DJ, due volte, comunque è un posto da 10.000 persone. Certo. Avevo già fatto Radio DJ una settimana con Albertino in co-conduzione, più vari ospitate, avevo già tante cose, avevo già pubblicato il mio album, lo stesso di cui ora stiamo parlando, ed era già stato primo in classifica, della classifica, diciamo, alterna tipo indie, quella che c'era allora, dei dischi indipendenti, poi a un certo punto è stato, diciamo, rimpacchettato con una diversa copertina, con due, tre versioni aggiuntive fatte live, tra l'altro, anche là, ecco, ero già stato a Radio Rai, a Via Siaco a fare il concerto, insomma c'era parecchia attenzione su di me, però con dei numeri ancora limitati alla scena solo rap. Cioè, avevo preso tutta la scena rap e quelle classiche persone che sono sempre un po' dietro a quello che sta per esplodere, ma sono addetti del settore. A un certo punto, niente, rimetto mano a una canzone che già esisteva in quel disco, che era una versione del 96, che è super cafone, rimetto mano al testo cercando di renderlo un po' più popolare come potenziale, no? Quindi magari elevare le citazioni del mio mondo del rap e metterci dentro magari un Verdone, piuttosto che un Califano, piuttosto che Raffaella Carrà, piuttosto che Funari, piuttosto che vari luoghi citati, Studio 54, il Piperdisco, eccetera. E a quel punto complice anche un video con Valerio Massandrea, la regia prima di T-Bros, veramente in 20 giorni, anche se non c'era il web, era molto più lento tutto. Era difficile andare virale in quel momento. Sì, è un'esplosione che sarebbe molto più contemporanea come narrazione. Fa proprio il botto ed è sulla bocca di tutti, in classifica ovunque, in televisione ovunque e quindi chiaramente vengo un po' travolto, nel senso che non ero così strutturato per ricevere un'attenzione del genere, ma non tanto live che è stato il mio mondo perché non avevo grossi problemi. Anzi, potrei avere il piacere di passare da, non so, 500 persone al concerto a 5.000 che sicuramente piacevano. E fino a punte poi di 12, 13, in quel istante. A livello invece mediatico, perché si crea un cortocircuito, nel senso che i giornalisti di allora generazionalmente non sapevano nulla dell'hip hop o molto poco. Quei pochi poi erano legati all'hip hop solo di Public Enemy per dirti che è bellissimo, c'erano tutti i dischi loro, però non è che è l'unico hip hop che esiste, ma in Italia era quello più considerabile perché avendo un'attitudine sociologica e politica nei testi era ben visto rispetto al rap che in realtà è quello originario che è un po' più egotrip, cioè Quanto so figo, il mio DJ è numero uno, io e lui insieme facciamo le serate, spacchiamo e poi andiamo a casa con due pischette, cioè il hip hop è così che piaccia o meno. E praticamente quando io interagivo con dei giornalisti, io partivo come se interagissi con quei pochissimi come Paolo Azugar che all'epoca scriveva su e dirigeva una rivista come Elle che poi è diventata Groove e poi è la manager di tanti rapper strafamosi come Fibra, Marrakesh e compagnia. Allora parlando con loro ci capivamo e ciò che usciva dalla chiacchierata era corretto, invece parlando con gli altri, poi ciò che ci dicevamo apparentemente era compreso da entrambi, poi nella lettura dell'intervista dicono ma che cavolo hanno scritto, ma è tutto sbagliato, non mi hai detto queste cose. Qualche modo ti distorce, ti trasforma in un personaggio. Non potendo capire la cultura hip hop e lo studio che c'era a livello appunto linguistico, testuale, loro poi tendevano qualcuno in buona fede, qualcuno addirittura in mala fede a macchiettizzare, per cui diventava un po' sembrava a volte la commedia, il bimovie, capito? Che tra l'altro io amavo e citavo spesso per cui poteva dare origine a questo dubbio, ma non era così, cioè il ragionamento era molto più alto, era. C'è la cultura afroamericana dell'hip hop, è fighissima, come facciamo a portarla in Italia sulla bocca di tutti? Questo è il quesito. Soluzione, decliniamola con il linguaggio di Roma di tutti i giorni che usiamo a villata, piuttosto che a scuola, quindi con Ibella, Spacca, Zic e poi ora, dicono anche X Factor a Milano, insomma è proprio diventato quotidiano, all'epoca solo noi nei testi nostri. E poi che facciamo? Prendiamo il quattro quarti break beat dell'hip hop, ma mettiamoci dentro una citazione, uno scratch di uno stornello romano, cioè rendiamolo romano, facciamo il funk romano. Infatti era il nome del nostro, diciamo, sottogenere, Spacca. Certo. Motivo per il quale a me, ai Swan e gli amici del Colle, che era la criuta per l'ottavo Colle Roma, la prima a Roma che ha, diciamo, sviluppato numeri davvero importanti, chiedevano un sacco di live in tutta Italia, chiedevano di fare dischi e featuring o mixtape, perché, dice, voi siete rappresentanza, la bandiera della nuova musica a Roma oggi e quindi siete invitati a suonare a Torino, Milano, chi più ne ha più ne mette. Questo aspetto regionale è interessante, no? Perché tu hai detto non prendo solo la forma, ma prendo anche la sostanza di una cultura, cerco di adattarla, di localizzarla per non fare la copia di qualcos'altro che è oltroceno. È bellissimo anche il tema della collaborazione. Facciamo un parallelo tra quello che succedeva a quel tempo lì e quello che succede oggi. Secondo te la tendenza e la possibilità per molti ragazzi oggi di fare tutto da soli tramite il computer, attraverso degli strumenti che amplificano le loro possibilità. A differenza di un tempo in cui c'era più una specializzazione, cioè tu non ti mettevi a fare le fotografie o non ti mettevi forse a fare street art, sì magari sapevi un minimo, avevi fatto qualcosa, però la lasciavi fare a chi la sapeva fare bene. Oggi queste possibilità in più hanno accresciuto la possibilità anche di collaborare o siamo in un certo senso molto più soli nella nostra crescita culturale e professionale in campo artistico? Con esattezza non saprei risponderti. C'è una mia idea, ma come tutte le idee è figlia della mia età e del mio percorso, per cui magari potrei avere la sensazione, ma potrebbe essere anche errata, di una maggior solitudine, pure in un contesto così social. Dovrei ragionarci, cosa purtroppo è impossibile, facendo finta di avere 16 anni, 18. Sicuramente diciamo la velocità di, come se fosse un algoritmo, di vicinanza tra persone che seguono un qualcosa, perché poi questo esula dall'hip hop, può essere qualsiasi mondo, subcultura, è molto più ampia. All'epoca potevi avere la percezione in una subcultura di essere te e due gatti, cioè veramente i tuoi due amici di Roma che come ti amavano quella cosa. Adesso invece vai sul web e scopri che c'è comunque una comunità. Dici, ah cavolo, siamo 10.000, magari in tutta Europa, però comunque non sono solo. In qualche modo di qualsiasi cosa trovi qualcuna, anche la più folle o di nicchia, tu qualcuno penso che... Appassionati del crisi etostriato. Eh sì, lo trovi, lo trovi, quindi ti senti meno solo. Questo probabilmente è bello. Quello che forse è sicuramente cambiato è che a livello di competizione, questa è cresciuta tantissimo. Quindi la cosa che non invidio a nessun altro che è venuto dopo di noi, che noi siamo stati davvero pionieri, cioè ce lo siamo inventati noi, le regole non erano scritte, le abbiamo fatte a volte con strette di mano, anche a volte con piccole discussioni, insomma come ci può stare anche per quell'età, ma senza ansia da prestazione. Cioè noi eravamo i primi, se va riusciamo bene, se no vabbè torneremo a fare l'università, chi l'avvocato, chi il commercialista, chi quello che era, chi il professore. E invece è andata anche bene, quindi siamo riusciti non solo a scrivere un pezzo di storia, ma anche aprire, anche se poi non tutti ce lo riconoscono, perché sai poi è arrivata la quarta generazione, è difficile ricordare, no? Certo. Però è innegabile che siamo stati i primi a Roma, così come altri amici e colleghi in altre città, e se c'è tutto questo è sicuramente anche grazie a noi. Però è anche tanto cambiato perché sviluppa dei numeri così importanti che noi abbiamo sviluppato, ma diciamo sotto forma di magari singole canzoni. Invece ora è proprio tutto un album e tutto un percorso che continua a sviluppare numeri importanti, come un po' si alzi il livello dell'acqua, ogni tanto c'è l'onda grande e la cavalchi col cerco, invece in questo nuovo oceano le onde ci stanno sempre, più o meno grandi ma tutte cavalcabili, periodi secca ce ne stanno insomma al momento fin qui pochi. E' diventata così costante che chiaramente ha suscitato l'indevitabile interesse di realtà come sono le multinazionali che chiaramente sono lì, non perché chiamano l'hip hop o altro, perché quello sviluppa soldini, poi sei hip hop, folk, reggae o elettronica, poco cambia. E questo chiaramente ha cambiato anche tanto sia le regole che l'approccio che hanno tanti ragazzi a questa musica. Cioè quando tu parlavi con noi, ma in realtà anche facendola adesso, vorrei portarti qua tanti altri amici della mia età che hanno cominciato con me, ma anche di successo, cioè nomi importanti. E per quanto per noi è diventata una professione, poi l'approccio è comunque molto emotivo, anche un po' come se fosse qualcosa di sacro l'hip hop, la cultura musicale, c'è sempre da cercare di trovare una convivenza tra la forma professionale per cui c'è un guadagno, ma senza esagerare e travaricare poi il mero commercio. Cioè il vostro sogno non era fare il grano facendo la musica, era fare la musica? Esatto, quindi il grano è sempre stato visto come mi serve il grano per fare altra musica, lo scopo finale era sempre la musica. Era una dipendenza. Magari c'è alzare il livello e la qualità e anche la quantità magari, ma soprattutto la qualità, dalla grafica alla produzione alle collaborazioni al videoclip, alla promozione, tutto quello che servisse per arrivare a portare la propria musica a più persone possibile. Ora questi due aspetti si sono ribaltati forse e per cui succede che tanti ragazzi, io ho l'impressione che nemmeno si godono quello che fanno, perché c'è questa continua, appunto, anzi la prestazione, dico hai fatto un pezzo da paura, complimenti? Eh sì, però c'ho meno view di quello e poi c'ho meno stream di quell'altro e dici però goditelo pure. Innanzitutto ha ricevuto tantissimi complimenti, fai i tuoi live, fai la tua vita d'artista. Lui ha di più, a parte in questi momenti, i conti vanno fatti alla fine, ma poi analizziamoli anche i certi numeri, perché poi molti sono dei fake totali, per cui secondo me l'importante è godersi quello che uno riesce a fare, che sa fare e la gara se ci deve essere, perché ci può anche stare, la concepisco, ma almeno io l'ho sempre fatta con me stesso, cioè in modo che ogni brano, poi non sempre uno ci riesce, però lo scopo diciamo di fondo è che ogni brano successivo al precedente in qualche modo possa risultare alle orecchie di chi lo ascolta tecnicamente e qualitativamente migliore per contenuti e per appunto interpretazione, come penso che tutto il mio percorso musicale, cioè tra gli esordi fino ad oggi c'è una crescita tecnica e esecutiva che per me stesso è impensabile rispetto agli inizi. Poi può piacere anche meno, perché magari è meno rap, è più melodio, non lo so, però personalmente me la vivo giusta e corrispondente alla mia età e quindi anche onesta e sincera nei confronti di chi mi ascolta, cioè non faccio finta di avere eternamente 16 anni con i testi di un certo tipo, ma appunto racconto quello che è anche il mio percorso umano. Quando ti ho invitato a fare questa chiacchierata ho scoperto che stavi proprio lì per lanciare un nuovo pezzo e quando ho aperto Spotify, ho cercato più otto e ho visto qual era il nuovo pezzo, boom, mi ha esposto il cervello perché era un brano che amavo tantissimo. Il pezzo si chiama Lella e poi mi racconti la storia di questo brano. Sì, la storia si lega poi a questa ultima cosa che ho detto, c'è un brano che se l'avessi fatto anni fa o non l'avrei fatto avrei rischiato magari anche un po' di rovinarlo perché forse non avrei avuto la sensibilità e la tecnica a canora e anche compositiva giusta per farlo. Questo brano per me è importantissimo, ma al di là del fatto che poi ho avuto l'onore di metterci mano, cioè da sempre l'ascolto e da sempre come tanti da piccolo lo canti e non capisci bene la drammaticità di questo testo. Certo, è vero, io pure ricordo mia madre me lo cantava e io da bambino non lo comprendi, poi crescendo invece... No, molti avevano scritto me lo cantava mia madre come Ninna Nanna, Ninna Nanna, femminicina. Però in effetti c'è questo contrasto a volte tutto romano, anche molto cinico tra... Te lo voglio di che so stato io, con questa musica sotto quasi ballabile, folk da piazza, per cui dopo realizzi quasi un senso di colpa. Ah, ma lui dice... Insomma commette questo che... Ah, cavolo, ho cantato sorridente. E allora ho cercato e per fortuna anche gli autori originari, Edoardo De Angelis, Estelio Giccapalli... Ecco, perché poi molti la associano a Fiorini che l'ha cantata come esecutore. Fiorini l'hanno scritta e cantata come primi esecutori, Edoardo De Angelis e Estelio Giccapalli in coppia vincendo Castro Caro Giovani. Poi il successo diciamo popolare di strada che potesse arrivare anche appunto a Trastevere così è stato Dilando Fiorini, quello televisivo dei Vianella. Poi la canzone ha avuto tanti rifacimenti di Edoardo stesso con per esempio Venditti, Paola Turci spesso l'ha fatta o forse la fa ancora dal vivo. Insomma è una canzone che... questa è magia di alcune opere, non lo sanno nemmeno gli autori. Fatto sta a 50 anni, sembra scritta ieri o sembra scritta 500 anni fa. Infatti qualcuno pensa ma sarà un tradizionale? No, per fortuna gli autori ci sono e sono anche vivi e lottano con noi. E si sono complimentati per questa versione dove io e Francesco Santalucia, pianista con cui lavoro da tempo, con cui ho fatto tutte le musiche di Subburra per esempio, abbiamo fatto questo ragionamento, cioè ridiamo musicalmente parlando, secondo noi l'atmosfera giusta per quelle parole. Cioè ora quando parte il pezzo e c'è il piano e poi io che canto e tutto il crescendo, secondo me ciò che senti in note, ciò che senti in parole viaggiano all'unisono, cioè nella stessa dimensione emotiva comunque di un pezzo che è sicuramente difficile, drammatico, complicato, struggente, però mantiene questa dimensione anche corale proprio da stadio, infatti la cantano anche allo stadio di quando poi arriva il ritornello. Poi mi è stato anche permesso di aggiungere una parte, perché l'idea qual è stata in più. Vabbè ma di lei si sa, si sa poco di Lella, è tratteggiata qua e là e purtroppo si sa che viene uccisa da lui. Ma sto lui dopo, che fa? E quindi 50 anni dopo questo lui ormai è anziano, torna sul luogo del delitto che per sempre comunque ha segnato purtroppo la vita di Lella, ma in qualche modo anche la sua, consapevole dell'errore fatto, questo senza se e senza ma, ma sempre con quell'attitudine, così io l'ho immaginato un po' sfrontata da quel ragazzo di strada pasoliniano che viene tratteggiato nella canzone originaria, che di fatto è una storia tra una lei più adulta della Roma bene e un ragazzo molto giovane di Borgata, che poi si sente usato quando viene lasciato di colpo da lei e ha questo gesto folle e criminale. E torna lì e vuole pagare il conto, però chiaramente non lo fa in quella forma cattolica, scusa, sbaglia Dio, lo sfida Dio, apri me che sargo, paga il conto, perché non ce la fa più manco lui. Però vuole pagarla un po' diciamo in maniera coatta. E' una prospettiva bellissima anche perché nel brano originale c'è, lui lo dice, che ritorna nel luogo del delitto e dice però non ci penso e invece vediamo che dentro gli ha scavato negli anni questo pensiero. Molto molto bene, mi ha fatto venire la pelle d'oca ora mentre ve lo raccontavi. C'è l'idea nel mondo digitale di una più diffusa democratizzazione di, nel senso americano del termine, cioè di accesso alle possibilità. Un ragazzo può mettersi là e creare il proprio brano musicale, produrselo e poi pubblicarlo, essere lì su Spotify proprio fianco a fianco con artisti che invece hanno tutto un percorso musicale. Mi è venuto un dubbio a un certo punto, ma non è che questa cosa è una narrazione che le piattaforme fanno, ma forse non è vero che è così facile emergere. Cioè la potenzione potenzialità per tutti di essere musicista indipendente, di farsi da sé il proprio percorso, di non doversi confrontare con le etichette, con le case discografiche, forse tutto quell'ecosistema lì in realtà aiutava l'emersione di artisti giovani che dovevano comunque crescere. Quello che chiedo a te anche come produttore, questo sistema digitale ha dato o ha tolto al mondo artistico e ai giovani musicisti. Ha spostato nel senso che a livello scenografico, non a caso uso questo termine, apparentemente è come dici te, cioè di colpo il ragazzo X che è ora in questo momento, mentre parliamo nella sua cameretta, ha scaricato un Type Beat pagando il diritto per un uso digitale, ci sta accantando sopra e con, per dire due piattaforme, ti un coro, distro, chi te lo carica dopo dieci secondi, nella ricerca del suo nome, mettendolo accanto agli altri che si trovano consigliati in automatico, lui è Jay-Z, lui è, non so, Sfera e Basta per dire un nome così più giovane, stanno sullo stesso piano. Chiaramente è apparenza, c'è questa narrazione di questa economia circolare, per cui tutto può accadere. Sono magari velocizzati alcuni slanci, alcuni percorsi, però non sono mai così del tutto casuali e soprattutto credo che l'economia per sua natura alla fine, per quanto circoli un po' di più, la forma geometrica più giusta sia comunque la piramide, cioè nel senso che c'è una massa di persone che viene chiaramente investita da questa possibilità e quindi si catapulta a fare numeri, a smuovere ascolti, commenti, views dentro appunto al web, ma poi alla fine tutta questa spinta economica, anche di energie proprio personali, va a confluire comunque in una direzione dove a mano a mano la strada, che era molto larga, si fa via via più stretta, fino a poi a essere praticamente un vicolo dove passano in pochi, soltanto che diciamo che alla fine un tappo da qualche parte va messo. Quando io cominciavo il tappo era a Monte, ora non ti dico che a Valle sarà forse un po' prima, comunque da qualche parte poi un tappo c'è, per cui inizialmente tutti entrano, cioè il locale è aperto a tutti, rispetto a prima che proprio c'era una selezione all'ingresso. Però poi di fatto colui nel locale che gode delle bellezze del locale, dello spumante, del privé, faccio una metafora, un po' trap perché per arrivare anche a chi è più piccolo così, magari il resto è impresso, privé, spumante, donna più figa, uomo più figo del locale e quello non è per tutti. Diciamo che la selezione anziché all'ingresso l'hanno messa al privé, però c'è sempre. Ok, tu hai costruito un percorso che è stato un percorso artistico ma anche imprenditoriale perché non ti sei bruciato in questo fuoco di paglia della fama di una stagione o dei picchi che hai avuto, ma hai saputo costruire, anche diventando produttore, un contesto, un ecosistema. Se dovessi parlare con un ragazzo e lo vedi che comincia a lavorare bene, a cantare, a creare cose interessanti, qual è quella singola cosa che per te ha fatto la differenza? Quel consiglio che diceva, è tutto bello, però non ti dimenticare questa cosa lungo il tuo percorso. Sì, la so, te la declino sul mio carattere però, perché io sono sempre stato una persona molto educata, rispettosa, ma anche molto indipendente. Ho bisogno del mio spazio, ma veramente dalla cameretta di quando ero piccolo a quando sono uscito di casa fino adesso, fino a uno spazio umano e poi crescendo lavorativo. La mia idea è molto semplice, è sempre stata, vuoi fare il commerciante, meglio che il negozio sia tuo, vuoi fare il tassista, meglio che te compri un tassi, vuoi fare il camionista, comprate il camion. Cioè comunque, del mestiere che più ti piace, tu devi essere padrone dei mezzi per poterlo fare, prima di chiedere permessi a nessuno o essere schiavo di tempi di terzi. Quindi per me è stato avere il mio studio, avere la mia etichetta, conoscere ogni passaggio di quello che faccio, esattamente come un artigiano. Questo è il punto forte, è anche un punto debole, nel senso che logicamente dando meno spazio e consentendo meno ad altri di entrare dentro al tuo business, perché vuoi conoscere tutte le componenti di questo business, o smuovi proprio delle cifre gigantesche, allora comunque c'è margine per tutti, o poi tendi più a rimanere in quella dimensione forse artigianale. Soltanto che a me questa cosa piace, per cui per me non vado in sofferenza di questa cosa, ma in esaltazione ti direi. Per cui me la vivo così da indipendente, nudo e crudo e puro. Giulio Gaudiano 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 Gaudiano